Good morning guys! Il video di oggi ragazzi è stato consigliato da Marco D'Aquino Sottolineo che è un mio scritto a Telegram Andiamo a vedere come montare il sissi bar e la sella passeggero Ma come sempre ragazzi, prima di iniziare cosa bisogna fare? Sigla! Ok ragazzi, siamo quasi pronti ad iniziare il lavoro E vi faccio vedere i miei attrezzi di oggi Per iniziare ho bisogno del mio kit di attrezzi Ovvero chiavi inglesi E l'immancabile set di attrezzi Che poi fondamentalmente è quello che mi porto dietro ogni volta che vado in moto Non deve mancare mai E poi abbiamo il protagonista di questo video Schienalino sissi bar, il portapacchi E il panettoncino sella passeggero Questo sissi bar è quello originale L'ho trovato già sulla motocicletta E quindi non vi so dire precisamente quanto è il suo costo Era già completo di sedile, schienalino, portapacchi e pedane passeggero Però c'è una cosa che vi voglio dire importantissima Se vi piace lo schienalino ragazzi Date un'occhiata prima a chi li fa in maniera artigianale E in quel modo ragazzi li avete solamente voi Perché ve li fate su misura Direi che ora le parole stanno a zero E siamo arrivati al momento in cui queste mani si devono sporcare sotto i guanti Mi avvicino noise e iniziamo a lavorare Per fare questo lavoro abbiamo bisogno di solo due attrezzi Chiave metrica da 13, mi raccomando con testa tonda In modo tale che si possa adattare molto bene Misura 3 sedicesimi Ovviamente parliamo di pollici Per farvi vedere il lavoro mi sono smontato i supporti che andiamo a montare in questo momento Quindi attualmente non avendo il sissi bar avete questa soluzione così Per andare a montare il sissi bar alla fine dobbiamo andare a montare quelli che sono i supporti su cui poggerà Eccoli qui Ricordatevi che queste viti qua Due qui e ovviamente due dall'altra parte Sono portanti Infatti una volta svitate E tolte Il tutto Rimane mobile Deve essere ben stretto Quindi mi raccomando Sempre sempre una vite Se avete il sissi bar Avete la vita in dotazione più lunga Per andare a sopperire all'aggiunta della distanza qui fuori dei supporti La differenza dovuta dall'attacco del sissi bar Non essendoci più Va a sporgere all'interno del parafango E la ruota ovviamente ci va a toccare E si crea un casino della madonna Si spacca tutto Se io vado a togliere questa vite Vado a rimettere quella originale Ricordatevi perché è più corta Mi raccomando Importantissima questa cosa ragazzi Importantissima È un lavoro semplicissimo ragazzi Basta togliere le viti originali Prendere quelle più lunghe I supporti E il dado da avvitare Vedete che abbiamo due distanziatori differenti Il distanziatore più piccolo Andrà posizionato qua Davanti Quello più grande va posizionato Sul retro ragazzi Visto che ci sono Direi di cominciare da quello posteriore Prendo lui Infilo la vite Mettiamo dentro Posiziono il dado E ora non faccio altro che stringere Alla morte Ok Vedete che nel supporto invece quello anteriore Abbiamo una parte completamente piatta E una parte con un piccolo scalino La parte con lo scalino Va messa a favore della moto Quindi metteremo la testa della vite Sulla parte piatta Ora arriva la parte divertente Devo entrare con la mano dentro E sembra di far partorire una vacca Solita chiave inglese Si stringe Ora per montare le altre due Non ve lo faccio vedere Perché fondamentalmente è uguale Tutto montato Come vedete Non si muove più nulla Per finire il lavoro Non ci rimane che togliere Quello che è il portapacchi Nel mio caso Nel vostro caso La vite che qua Tiene ferma la sella Togliere la sella è molto semplice Basta alzare il dietro Spingere avanti E tirarla su La sella tolta dalla moto Con il suo aggancio dietro Prima cosa da fare Sfilare questo aggancio Sella passeggero Questo supporto deve andare al posto Di quello che avete appena visto Quindi semplicemente lo prendiamo E lo facciamo entrare Così Finché non fa un clac Step successivo Dobbiamo riutilizzare questa E andare ad attaccare Sul sedile del passeggero Riprendiamo lui Lo posizioniamo sul sedere In questa maniera E andiamo semplicemente Ad avvitare Sempre molto stretto Sella guidatore Passeggero Rimane solo una cosa da montare Questa cinghia È d'obbligo Quindi dovete Per forza Metterla Perché funge da piglio Per il passeggero Bisogna semplicemente Posizionarla Su questi Due Pisellini qua Ed ecco la sella passeggero Montata Con la stringa Reggimano Così come l'avete tolta Facciamo un movimento Al contrario E la andiamo a rimettere Questo dentino Che vedete qua Deve agganciarsi In questa fessura Dietro il serbatoio Uno Agganciato Spingo avanti La sella È ben messa E con la vite Che teneva ferma Questa sella Andiamo a bloccare Quella passeggero Vite messa Sella Bella Piazzata Ferma Il sissi bar A sgancio Rapido È per sua stessa definizione Veloce Da togliere E mettere Questa parte è così Ovviamente quella anteriore Si posiziona qui davanti Quest'altro qua Che poi va a chiudere A bloccare Su quello più ciccione Prima posiziono Quello anteriore Non faccio altro Che appoggiare Questo sopra E spingere Muovo la linguetta Uno Due Sissi bar Montato È ovvio ragazzi Che per montare Un sissi bar Non è d'obbligo Montare anche È la sella passeggero Perché si può montare Un sissi bar Perché ci piace L'estetica Senza avere La sella passeggero Io ho anche Il portapacchi Non vi faccio vedere Come si monta Perché sono quattro viti Lui dice che può portare Fino a un massimo Di quattro chili e mezzo Io ci ho portato La mia borsa Che pesava intorno Ai nove chili Non ho avuto nessun problema Oltre non andrei Ecco come risulta Un passeggero Sulla vostra moto E su una sport È la seconda volta Che mi siedo dietro E non mi ricordavo Di essere così alto Montare un sissi bar È semplicissimo E ce ne sono anche Di belli E vi ricordo Artigianali Altissimi Fatti a piramide Con tantissime personalizzazioni Cosa importantissima Nel montare Il secondo posto È ovviamente Montare le pedane Passeggero Ragazzi Se mi posso permettere Vi sconsiglio Con tutto me stesso Il sellino Quello fatto Con le ventose È sempre meglio Utilizzare un sellino Ancorato alla moto Si spende di più Ma una volta sola Purtroppo Andare a montare Il secondo posto Non è una spesa indifferente È anche vero Che il secondo posto Si può montare Senza la presenza Del sissi bar Anzi Ci guadagnate Pensate alla vostra Zavorrina Che vi abbraccia da dietro E i suoi Beyer bag Che si appoggiano a voi E come diceva Dan Peterson Mmm Mmm Come sempre ragazzi Spero che questo video Vi possa essere stato Di aiuto In qualche modo Basta avere delle accortezze E ve le ricordo La vite originale Non vi va bene con i supporti Ma la vite vi viene data in dotazione Qualora andiate a togliere Quei supporti Ritornate alla vite originale Perché quell'altra Sarebbe più lunga E toccherebbe sulla ruota Iscrivetevi al canale E cliccate anche sulla campanina Per rimanere sempre aggiornati Ciao ragazzi Sarebbe più lunga